Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con l'A1 dove per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e il vivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna segnaliamo che l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla A12 ancora per traffico intenso, rallentamenti tra l'allacciamento per la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. Sulla A11 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato nel tratto tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Sul raccordo sia in Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!